Ah, TOMI! COMPLA! La coppa di... La coppa di merda! Il colore Toreros River Plate! Questo timo se quando la squadra sono completo chi rompò il culo di River Plate Non mi radioviare! Ah c'è il conto in diretta Io sono Nanni però Nanni, Gianmarco, Galactri e Ferro Chi esce ci prende la cosa? Ho conosciuto una vita, amici! nooo i minuti conoscono la vita eheheh dai 4 4 4 4 1 2 3 4 8 9 10 vai vai gli abbiamo rotto il culo vai madrella ma scarsa c'è minchia ahahah rimarrà storica questo fallo su marrella incredibile e vogliamo il premio fair play tanto hai cazzato possiamo ancora dire qualche cosa ma di che cos'è e allora minchia io ho segnato a vero ha fatto in class con il river play a vero la scarpe del nonno le valli del nonno avevo le scarpe del nonno avevo le scarpe del nonno avevo le scarpe del nonno allora che vuoi? che vuoi? niente se ne va così asserti guarda riprendi la non gli riesci te sei e allora pareggio con gli elfish rocambolesco 0 primo tempo per noi ma che gol ha fatto di vincenzo di vincenzo ha toccato due palloni rovesciata rovesciata incredibile golazzo assurdo sul polo rete gesti tecnici ciova come al solito rompe i coglioni tutta la partita però però non si sa come ha scattiato se l'ho tenuto troppo bene ha scattiato aveva fatto qualcosina infatti il gol se l'ha perso di giovanni ho pensato sono sempre scarto i fantasmi di marrella ho già fatto un partitone ho pure segnato ha segnato ha segnato che è tipo arrotolato Gabriele pure è bravissimo oggi mamma è Bruno ah nel gol ha ascoltato il fattore 1-2 con mappa io mi butto in scivolata io Gabriele e cocilopo vince cocilopo il rimpasto non si è mai visto siamo attassati non si è mai attassati siamo attassati dopo i comms ci siamo dopo il cagliari ue 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 il prossimo turno vedi The Bulldog si pizzi così lancio la palla come la setta vai pizzi il fratello di Nanni che non lo conosce dalla vita non lo conosce dalla vita c'è quel negato ecco qui Nanni Nanni e con noi le palle del nome palle del nome i titans hanno vinto si si la faccio ora l'intervista sono contento felicissimo hai segnato quando sei venuto giocareんで onde ma dove quando si mette quella faccia quando si mette quella faccia ripignati come la faccia questo ma non lo conosce le palle del nome No no oggi abbiamo fatto la partita più bella se hai scenario Gli stock ha stregnato il stanno Ma non è oggi c'è stato Eeeh Giocovi C'è busato E prima è entrato, ha tirato una bomba all'incrocio 1-0 Nel secondo tempo entra, ha tirato una bomba C'è un po' traversa In seguito è tornato Si vedeva la senza dei danni, si è sentito Minchia, si è sentito Nanni Ho segnato, ho segnato più col dinamè Ho segnato più col dinamè Come? Di chi? ti? 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 o sei un piccolo di Alessio il campionato vabbè, una coppia da Nigro e Graziano si deve vedere in questo campionato si potrebbe fare io conoscerò una vita io conoscerò una vita io penso lo sai che vero? lui giocava punta con lui ma raccontatemi questo campionato lui era attaccante io propongo come con la portapapa io propongo Graziano che li conoscono nella vita tutti quanti ma saremmo come per ciao Russo come avete perso? domani a che sai? domani giochi? a domani banzai comunque c'è quel ragazzo che vuole mangiare la pasta col tonno ai pomodorini quindi ce ne andiamo e c'è cite la partita del Milan per danni Deletro Rossi stasera delirio potrebbe partire già mi vuoi concludere tu l'intervista Si che i titans sono fortissimi In casa dei titans se c'è la palla del nonno Si è cavati Allora, oggi che è la volta in campo? Nell'editoriale che è che lo fa l'editoriale? Il grande Giuseppe Di Giovanni che ogni volta... E commentate il giorno dopo dopo quel fallo è fatto a Marello Sono diventato famoso Alessio! Famoso Alessio Ho avuto 8 milioni E che palla di Sabre Eccolo! Ma la smetti! Che sei? Il mio video ha avuto 8 milioni di visualizzazioni su Youtube E sono diventato ricco Io sono super picchiato Ho stupito un torto da un ragazzo di Namak Di Namak Che idiota! E' un Namakian pure E' un picchiato! Va bene Atomic Compagni di squadra! Il gemellaggio titans! Atomic continua Alla chicchierò Va bene! Chiederò un mancino ma penso che Dico anche un cieco ha visto 45 e mezzo consecutivo per Alessio Penso che anche Lazzaro L'abbiamo pareggiato Qualcosa in più Vabbè era Atomic Vi saluto! Mi ringrazio e vi salutano! O se vuoi San Dio! Vabbè ecco a te! Mi ha uscito una vita! Dio! 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 Dio!